Per rinforzare il reparto offensivo la Paganese starebbe valutando l'ingaggio di Amet Fall. L'attaccante classe 91 nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fidelissandria. Sulla punta però si registra anche un sondaggio della neopromossa Ravenna. Andrea Meroni è ufficialmente un nuovo giocatore della Paganese. Meroni, difensore classe 97, lo scorso anno al Cosenza, già da qualche giorno aggregato col gruppo Azzurro Stellato, ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2020. Anche Mariano Bernardini è un nuovo giocatore della Paganese. Il centrocampista, classe 98, arriva dal Genoa in prestito fino a giugno 2018. La società Azzurro Stellata ha anche messo sotto contratto il giovane mediano Marco Mari, classe 2000, già aggregato a ritiro. Un nuovo difensore per lo scacchiere rosso-blu. La casertana si è assicurata alle prestazioni sportive di Francesco Forte, postente centrale di piede destro, classe 1998. Lungo il suo percorso giovanile ha indossato le maglie di Avellino, Paganese, Pescara ed Atalanta. Con il Pescara ha fatto costantemente parte della prima squadra, ottenendo due convocazioni in occasione del match di Serie A Roma-Pescara e in Team Cup per Atalanta-Pescara. Sono ormai pronto per misurarmi in una prima squadra importante, commenta Francesco Forte. Ho voluto fortemente questa nuova sfida e non posso che essere entusiasta. Approdino una squadra che ha sempre dato molto ai giovani di permettersi in mostra e in una piazza importante del panorama nazionale. Ringrazio la casertana per la grande opportunità. In casa Juve Stabia nelle prossime settimane Mastalli potrebbe seguire l'esempio dei compagni qualora dovessero pervenire offerte degne del suo cartellino da Venezia o Salernitana e di fatto il club al momento è tra i più pressanti. E non fa sconti l'attacco dove Canutè è rientrato al Benevento mentre San Domenico e Paponi sono a fiuggi con la squadra, anche se non è più un mistero che le Vespe stiano attendendo possibili acquirenti per poter poi continuare a muoversi in entrata.